Ciao amici sono PaninoTube e oggi torniamo con un nuovo video sul secondo canale Oggi siamo su Save the Girl, un gioco dove noi dobbiamo salvare questa fanciulla Attraverso delle scelte che ci propone il gioco In base alla scelta che noi facciamo, vediamo se la fanciulla viene salvata oppure no Prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere salutati nei commenti basta che me lo chiedete Vi saluto direttamente sotto nel commento con tanti cari saluti Ma ora direi di partire, direi di cominciare, qui siamo nel primo livello Allora, dobbiamo salvare la fanciulla, cosa possiamo usare? L'accendino o le forbici? Io direi di usare le forbici per tagliare le corde che tiene le mani Ok, ecco qua, perfetto Livello completato, su su, vai E questo primo livello è stato completato Andiamo al livello successivo Lasciami uscire E ora come posso aprire questa porta? E non lo so, non lo so Abbiamo o una cosa di legno, un bastone di legno o un'accetta Direi di usare l'accetta Con l'accetta tecnicamente si apre la porta E infatti ce l'abbiamo fatta Vai, che bello Votiamo il gioco più avanti Andiamo avanti qua con il livello C'è un grosso buco nel pavimento Cosa possiamo usare? Come faccio per superarlo? Abbiamo l'asse di legno Oppure un secchio... Non lo so Un secchio di qualcosa grigio Cos'è quel liquido che sta nel secchio? Che cos'è? Vabbè, io direi di mettere qui l'asse di legno Così può camminare sopra Vai amichetta, vai via No, e va bene Ma pure lei E va pure lei che si blocca a metà Cioè c'è lì il coso La trave di legno Le si blocca a metà E poi se le scende qua Vabbè, allora usiamo il liquido Vediamo che cos'è sto liquido Ah, ma aspettate Mi sembra che sia cemento quel liquido Però scusate Ma il cemento si deve prima asciugare Prima di camminarci sopra C'è qualcosa che non va Ma va bene lo stesso Nuova skin sbloccata Spettacolare Una volta che lo perdi Potrebbe essere sparito per sempre E prendiamola Si è persa la connessione No No, peccato Va bene Andiamo avanti Livello successivo Quello è il rapitore Oh mamma mia Devo sgattaiolare fuori Non so voi Ma a me quello sembra tipo un misto fra Head Horse Versione di Corno Gioco di Head Horse Che è un gioco molto simile a Granny L'ho già portato una volta sul canale principale E guardate Sembra lui quasi quasi Vediamo cosa dobbiamo prendere Io prendo il telecomando Non so Gli spengo la televisione Oh Mi sa che è stata la scelta più sbagliata Mi sa che non è stata la scelta più intelligente Anche perché dopo tutto Penso che chiunque si arrabbi Se qualcuno gli va a spegnere il televisore Quindi Forse da un lato ci stava E vabbè Prendiamo la scatola E cosa faccio con sta scatola Ah ok Camminiamo avanti E quello non si accorge di nulla Proprio non si accorge di nulla Va bene Sono uscito Come uscito Sei uscita Sta diluviando E prendiamo Qua l'ombrello E va bene E pure questo Pure questo ci sta No No Va bene Dobbiamo ripartire qua Devo scattagliolare fuori Mettiamoci qua il cartone No ma dico io Dico io No Io quando esco Che piove Mi metto l'ombrello Vado tranquillamente Fino a casa mia Perché qua Tutti sti problemi Sta diluviando Sì lo so Sta diluviando Ci sono pure i tuoni E vabbè Mettiti l'impermeabile Va bene Ok Andiamo avanti Sì che bello Ho salvato la fanciulla Perfetto Ma Poi scusa Cara fanciulla Ma come ti ci sei ritrovata In quella situazione Come ci sei arrivata là Chi ti ci ha portato lì Vabbè No Non mi faccio domande Andiamo avanti Aiuto Ah c'è lì il rapitore dietro Ok Ah allora Cosa possiamo fare qua Io direi di metterci un bel divano Così non può aprire la porta Infatti potrai battere la porta Fin tutte le volte che vuoi Ma tanto quella porta Non si aprirà Perché c'è proprio un divano enorme Che la chiude Ok Qua mo quale sta il problema Dov'è il problema Qua abbiamo O una crowbar O una torcia Direi di usare la torcia Non so perché usare l'altro Oh no Pure il cagnolino Pure il cagnolino Ma no Ma dai Ma diamogli qua il polletto Suso Mangiate il polletto No 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 Perché Perché Va bene Riproviamo qua Quindi Quando io perdo Devo poi rifare il livello Da capo Vabbè ci sta Tanto qua abbiamo capito Cosa dobbiamo fare Mettiamo qua il divano Ora qui andando avanti Dobbiamo prendere la torcia Si si è così buio Prendi la torcia Non so neanche da dove la Prendi sta torcia Dove l'hai presa sta torcia Che cane spaventoso E diamogli allora Qua la carne Ma anche sta carne Da dove sbuca fuori Da dove è uscita fuori quella carne Cioè così A caso io esco Mi ritrovo Con una torcia in mano E con un bel cosciotto Di carne così No Non si sa mai Va bene Prossimo livello Storia 1 Finita Perfetto Ah ma qui c'è il pulsante Camera Cos'è questo Ah ma posso personalizzare Praticamente La mia camera La camera del gioco Vabbè direi di metterci Vabbè lo facciamo un'altra volta Fatemi sapere se vorreste vedere Una serie su questo gioco Che lo andiamo a completare Pian piano fino alla fine Tocca per partire No vediamo le skin Ok qua ci sono tutte le varie skin Che potevo vincere Pure i capelli posso personalizzare Andiamo avanti Iniziamo qua Ah Ora ci trasferiamo così Sulla barca Va bene E ora qua cosa succede Lei è bella felice In barca Non più Non è più tanto felice Ma come hai fatto A far prendere fuoco Di una barca intera Se andate lì A farti Una teiera A farti un po' di tè A mettere l'acqua A riscaldare E ha dato fuoco Di una barca intera Ma ditemi un po' Ma dai Allora direi di mettere qua Il ventilatore Vediamo qua Soffiamo via il fumo Mi sa che non è stata Una buona idea Mi sa che è stata Forse l'idea peggiore Questa Va bene Riproviamo Riproviamo Vediamo qua cosa dobbiamo fare Su su Vai avanti Perfetto Perfetto E ora qua Mi sa che allora Dobbiamo usare L'altro L'altra cosa Questo cos'è Ah un tovagliolo Da mettere in faccia Beh almeno così Può andare avanti E qua Non lo so Io non userei Tanto i fiammiferi No sapete perché no È riuscita a dar fuoco Ad una barca Solo facendosi un po' di tè Figuriamoci Che cosa combina Con i fiammiferi Io direi di usare la torcia Ok E infatti Con la torcia È andato tutto bene Perfetto E ora qua Cosa c'è Come faccio a uscire C'è lì un ascensore Prendi l'ascensore Ma no Prendiamo la scala Andiamo qua Saliamo Saliamo Ok Ho salvato la fanciulla Nuova skin E tanto non la posso sbloccare Perché qua adesso Sono senza connessione Quindi non posso neanche collegarmi Per prendere l'oggetto sbloccato Ok Andiamo avanti Livello successivo Questa pioggia è gelida Ah ok Proprio la nave è affondata È proprio affondata la barca Ok Direi di metterci qua A fare una bella tenda qua Che fortuna Una tenda Eh infatti Ma me lo dico pure io Che fortuna Trovarsi una tenda così In mezzo alla zattera Ok Ora fame Bisogno del pesciolino Ok Pesciolino Dove ti trovi Ah Questo è il pesciolino Di save the fish Così a caso Su una zattera Comparirà da nulla Una canna da pesca Così peschiamo un po' Vediamo Ma Ma cos'è Ma cos'è sta roba Da dove è uscito fuori Ma da dove è uscito fuori Quel mostro Ma dai Ma no Ma veramente Qua veramente Ci sono certe cose assurde In questo gioco Che non me le sarei neanche spiegare Questa pioggia è gelida Fa freddo tanto Sì ok Mettiamo la tenda Perfetto Secondo me se io avessi aperto l'ombrello Si sarebbe messo a piovere A diluviare Mi avrebbero preso pure i tuoni Ok Qua non dobbiamo prendere la canna da pesca Perché Mi raccomando Un consiglio vi do Se rimanete bloccati Se rimanete bloccati con la zattera in mezzo al mare Non prendete mai la canna da pesca Perché uscirà fuori un dinosauro sputafuoco Quindi fate molta attenzione Piuttosto usate il tridente Ma poi che abilità ha di pescare C'è così col tridente Prendi subito il pesce Come ha fatto Oh mamma mia C'è un bello squalo lì sotto E ora cosa facciamo qua Ma gli do la carne Su Squaletto mangia ti pure la carne Perfetto Sì mi sono ispirato al cane di prima Perché lo squalo è il pesce cane Quindi mi sono ispirato a lui Ho salvato la fanciulla Sì che bello Livello successivo Ok siamo arrivati qua su un'isola deserta Ha bisogno di Di bere cocco E va bene Prendiamo questo Così togliamo un po' di cocco Ma questo è da dove è uscito fuori Da dove è sbucato quell'uomino Ma chi era poi No Allora Su dai Vabbè prendiamo qua la clava Così facciamo scendere una bella noce di cocco E potrai berti il tuo bellissimo drink Ok E felice che ha bevuto il drink E ora E chi è quell'uomo Chi è Cosa vuoi Gli parla in una lingua Indecifrabile Vabbè gli do quella lecca lecca Maggi ti sto lecca lecca E fel bravo Visto Il lecca lecca Rende felice tutti Pure gli indigeni Quelli che trovi sull'isola Uuu Perfetto Aiuto aiuto Qui C'è l'elicottero Quindi direi di fare una cosa Direi di fare il falò Così l'elicottero può vederci E può venirci a salvare Eccoci qua Perfetto Avevo paura di usare il razzo Per il semplice fatto che Se lo avessi usato Secondo me avrebbe colpito l'elicottero Lo avrebbe distrutto E quindi non sarei andato avanti con il gioco Perfetto Finita pure la storia 2 Quindi direi di iniziare anche la storia 3 Mi sta piacendo sto gioco Fatemi sapere se vorreste vedere una bella serie Perché qua Secondo me uscirà una grande serie Perché so che è molto lungo questo gioco E c'è veramente tanta roba da fare Ok Siamo arrivati alla prossima storia Siamo dentro una foresta E qui che cosa c'è? Qualcosa di strano Va bene Mettiamo una candela Così perché il fuoco allontana solitamente No in questo caso no Non ha allontanato nessuno questa volta il fuoco Siamo nella forest zombie La foresta degli zombie Ok Sì abbiamo capito che c'è qualcosa di strano Mettiamo un po' di musica E infatti La radio quanto pare ha allontanato i mostri Non me lo sarei mai aspettato De essere sincero Non me lo sarei mai aspettato Ok Che cos'è quello? E' quello uno zombie E' uno zombie quello Quindi direi di usare Non lo so la torcia Solitamente gli zombie hanno paura della luce Sta indietro E mi sa che questo zombie invece no Non ha per nulla paura della luce Il primo zombie che non ha paura della luce E' la prima volta che mi capita una roba del genere Va bene Rifacciamo Andiamo avanti qua Adesso verranno qua le creature dietro O il cespuglio C'è qualcosa di strano Ma noi le mettiamo qua la radio Così loro se ne vanno via Sì che bello Dai su Veloce veloce Ok Ora qua compare lo zombie Noi gli dobbiamo dare la luce Perché il primo zombie che non ha paura della luce Ma gli diamo questo che non so che cosa sia Ah la luna Ma cosa? Ma cosa è successo? Lei si è trasformata in un lupo cane Un licantropo No volevo dire in un lupo mannaro No lupo cane Scusate Allora Qua non lo so Mettiamo la maschera da zombie Così passiamo inosservati come se nulla fosse Vai No se avessi usato la motosega Cosa sarebbe successo? Penso che non sarebbe successo nulla Avremmo perso se avessi usato la motosega Per il semplice fatto che Gli zombie sono immortali Non si fanno nulla Ok Andiamo avanti Livello successivo Aiuto Dove stiamo andando qua? Gli zombie che la rincorrono No Ok Allora Cosa abbiamo? Usiamo qua un fagiolo No cos'è sta roba? Ma sul serio? Ma dai Ma cosa? No Va bene Altri due Ce ne sono altri due Cosa usiamo qua? Usiamo la pistola d'acqua Sì perché lì c'è la corrente elettrica Così loro prendono la scossa E si va avanti Sì che bello C'è una casa E mi sa che entrare nella casa Non è la cosa migliore Poi fai come vuoi fare te Fai come vuoi Ok Qua cosa usiamo? Usiamo il punteruolo Così lui non può camminare No niente Proprio anche con il punteruolo Questo si mette a camminare Come se nulla fosse Come se niente fosse accaduto Vai Aiuto Su su Intanto sti zombie che la rincorrono Spettacolare Ok dobbiamo mettere qua prima il fagiolo Che diventa poi alla fine un cannone Che inizia a sparare Bellissima questa Bellissima sta parte Ok Ce ne sono altri due Perfetto Qua dobbiamo usare la pistola d'acqua Perché lì c'è la batteria con la corrente Vai lì Sciotta per bene E infatti Via Perfetto C'è una casa Che poi mi chiedo Trovo una casa così In una foresta per zombie Le che fa Ci vado ad entrare Niente dobbiamo usare questo liquido Non so cosa sia Ah olio E olio quello Va bene Va bene Così possiamo raggiungere la casetta Sì che bello Siamo arrivati dentro la casa Ok siamo dentro la casa degli zombie Armatura medievale Va bene Io comunque direi di fare una cosa Visto che comunque questo gioco è anche abbastanza lungo Direi di finire qua questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere anche altri video su questo gioco Perché li faccio molto volentieri Mi sta piacendo un sacco sto gioco Mi sta piacendo tantissimo Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti E tanti cari saluti da questa panciulla Ciao